Si può scrivere in tutta Italia, gli altri due nomi li vanno a scendere. Ma poi va in Europa, va a Strasburgo, a Bruxelles. E poi o vado in Europa o rimango in Italia, in ogni caso il mio lavoro lo faccio comunque. Va bene, grazie, grazie di essere riuscita a raggiungerci a Giorgia Meloni. Adesso c'è la reghetina e ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete. Grazie.